Volevano richiamare l'attenzione sui pericoli posti dal cambiamento climatico i due giovani attivisti che hanno incollato le loro mani sulle cornici di due dipinti del maestro spagnolo Francisco Goya al Museo del Prado di Madrid. La protesta non ha danneggiato le opere ma lo stesso i due sono stati arrestati. Il ministro spagnolo della cultura ha condannato l'accaduto definendolo un atto vandalico.